Musica Lunedì 9 gennaio 2023, buongiorno, ben ritrovati dalla redazione di Tele Regione Molise in apertura della nostra rassegna stampa, come di consueto, la lettura del regionale Primo Piano Molise nel taglio alto troviamo la politica, regionali spunta l'opzione tartaglione per la presidenza tra rumor, indiscrezioni e riposizionamenti entrano nel vivo le grandi manovre per le elezioni di fine maggio se gli alleati di centrodestra mettono il veto su toma, Berlusconi pronto a candidare la coordinatrice azzurra l'ex deputata in attesa di un incarico importante al Ministero, Patriciello prepara le valigie Cotugno, sempre più vicino al CAV, proprio sul tema noi andiamo all'interno di Primo Piano Molise tutto concentrato sulla politica, nel taglio alto prevarga la condivisione e la soluzione Campopiano una grande aggregazione moderata in vista delle regionali del 2023 un programma snello e praticabile per un governo di salute pubblica poi ancora nel centro pagina il futuro del Molise alla prova del voto fra strategie, selfie e la scelta di Aldo non sono di certo tranquille le acque del centrodestra Naelsa Tartaglione in polle per un incarico al Ministero degli Esteri avrebbe un piano diabolico l'articolo di riferimento a firma del direttore Luca Colella noi torniamo in prima pagina, sempre sul regionale Primo Piano Molise per dare uno sguardo anche alle altre notizie nel centro pagina la cronaca, la triste cronaca schianto sulla stata alle 16, mamma 39enne perde la vita Mare Angela Iorio viaggiava con il marito e il figlioretto incidente sabato a Marina di Lesina la donna è deceduta ieri a San Giovanni Rotonto sgomento a Morrone e Larino numerosi i messaggi di cordoglio nel taglio laterale poi il ritorno di Oreste Campopiano 2023, anno della svolta o del definitivo tracollo l'avvocato e politologo il tempo dell'apocalisse è vicino nel taglio laterale poi Campobasso a Salerno con i genitori, bimbo di 8 anni investito sulle strisce pedonali trasporti, treni e disagi infiniti dopo Napoli pur il viaggio per Roma diventa un incubo ladri poi a pesche, in azione a casa del padre della Calenda l'assessore so chi siete Benafro sempre nel taglio laterale inquinamento, cantone, istituto zooprofilattico contribuirà volentieri nel fondo pagina poi Campobasso si insedia oggi il prefetto Lattarulo 58 anni e bagaglio di significative esperienze nel taglio laterale come sempre il punto a firma del collega Pasquale Damiani la sindrome rancorosa del beneficato e poi nel taglio alto troviamo lo sport il vasto Girardi a Ciuffelchieti termoli battuto dalla leader Pineto eccellenza molisana Campobasso Isernia non sbagliano esultano Sesto e Boiano basket poi che befa troce per la Magnolia di Campobasso superata sul gong dal Venezia ancora sui regionali questa volta però su quelli abruzzesi come sempre partendo dal centro nel centro pagina in 2000 per otto posti in comune concorso a Pescara boom di iscrizioni alle selezioni per l'assunzione di impiegati e poi ancora sempre nel centro pagina marineria pescarese il caro gasolio torna a far paura sempre nel centro pagina casa esplosa ora si indaga sulle case Santomero la procura pronta a nominare un consulente e migliora l'anziano ferito nel taglio alto invece regione fondi a pioggia svelata la manovra bis con 1400 destinatari sempre i quotidiani regionali abruzzesi adesso con la pagina del messaggero abruzzo peggiora il sopravvissuto invece dice il messaggero esplosione dell'abitazione si sono aggravate le condizioni del proprietario ferito dichiarate inagibili alcune case confinanti con quella crollata a causa del gas Lanciano Scintilla Scatene il rogo devastato un agriturismo nel taglio laterale infermiera diventa schiava del sesso una vera violenza l'ex amante condannato a sette anni e mezzo costretta con la minaccia di divulgare le foto nel centro pagina poi Bucchianico botte con l'aspirapolvere uccise il nonno quindicenne adesso sotto processo dal regionale abruzzese ci spostiamo adesso al nazionale partendo come sempre dal Corriere della Sera nel taglio alto troviamo la politica estera a Brasile assalto al Parlamento i seguaci dell'ex Lidl Bolsonaro occupano anche il Palazzo di Lula scontri con la polizia e poi baci a bracci la Cina cancella le quarantene e riapre il mondo ancora sempre nel centro pagina caro benzina Salvini qualcuno fa il furbo il governo sui rincani fermeremo chi specula indagano PM e finanza dal Corriere della Sera diamo uno sguardo anche alla prima pagina della Repubblica nel taglio alto gli ultrati Bolsonaro all'assalto del Parlamento disordini in Brasile il presidente Lula fanatici fascisti nel centro pagina poi troviamo ancora il conflitto bellico in Ucraina armi a Kiev i tempi si allungano dubbi militari politici il decreto non arriverà prima di febbraio incognite sullo scudo antimissile Meloni e Crossetto decisi a rispettare gli impegni il sostegno dell'Italia vale un miliardo consigliere capo di Zelensky fate presto le forniture sono necessarie per far finire la guerra e poi ancora migranti porti sicuri l'ira dei sindaci serve un piano incidente sulla 1 notizia che ritroveremo anche su altri quotidiani scontri in autogrill fra i tifosi violenti di Roma e Napoli dalla Repubblica diamo uno sguardo anche alla prima pagina del messaggero nel taglio alto un tutor per alunni difficili l'intervista valditarra istituzione istruzione scusate dal prossimo anno figure specializzate per aiutare i prof dispersione scolastica al 13% va ridotta i presidi ruoteranno meno aule digitali senza telefonini e poi l'abbiamo letto anche sugli altri quotidiani nel centro pagina Napolitani e Giallo Rossi si affrontano battaglia all'autogrill vicino a Rezzo dove fu ucciso Sandri chiusa la 1 folie in autostrada scontri fra i tifosi in mezzo alle auto ferito sostenitore della Roma arrestato per rissa identificati 200 ultra in arrivo stretta sulle trasferte nel taglio alto poi la Presidente dell'Unione Europea in visita nella capitale oggi Summit Meloni Wunderlajer PNRR migranti pressing per le risorse il rialzo dei prezzi taglia l'assegno dell'1% l'inflazione shock mangia le pensioni il governo al lavoro per i nuovi aiuti ancora un riferimento alla rivolta in Brasile ultra assalta nel Parlamento rivolta dei sostenitori di Bolsonaro Lula schiera la polizia li puniremo dal messaggero uno sguardo anche alla prima pagina del tempo nel taglio alto oggi vertice nella capitale ora svolta sui migranti Meloni incontra von der Leyen per discutere sui rimpatri e pattugliamenti delle coste comuni di sinistra e rivolta il Viminare ci manda profughi per una manovra politica replica della sottosegretaria Ferro scelti i porti di altre regioni perché il sud è al collasso nel centro pagina poi un riferimento alla serie A che approfondiremo più in avanti sulla gazzetta dello sport noi continuiamo sul centro pagina gli ultra spaccano l'Italia a metà scontri fra napoletani e romanisti all'autogrill a uno chiusa per un'ora lì morì Sandri il MEF attiva controlli della finanza benzina alle stelle Salvini qualcuno fa il furbo nel taglio laterale poi il libro di Monsignor Georg così benedetto sedicesimo evitò lo scontro tra i papi ancora un riferimento alla politica estera a Brasile come gli USA di Trump sostenitori di Bolsonaro assaltano il Parlamento con bastoni e fumogeni dal tempo diamo uno sguardo anche alla prima pagina della verità nel taglio alto i DEM adesso piangono a camere sciolte l'ex governo piazza 82 nomine nonostante la circolare per limitare le attività degli affari correnti i ministri dei Draghi hanno riempito CDA e affidato incarichi fiduciari Franceschini Speranza e Orlando da soli hanno scelto 59 per sistemare SIAE Cassa di Previdenza e partecipate poi nel centro pagina poveri ragazzi e ancora mania vaccini e bassetti chi rifiuta si tiene la polmonite nel centro pagina poi i medici a gettone costano 200 euro l'ora e ingrassano solo le cooperative private camici a chiamata illegali fino al 2020 ora è boom nel Lazio manca metà del personale poi nel fondo pagina parla Aldo Maria Valli Ratzinger trattato senza il dovuto rispetto dalla verità chiudiamo la nostra segna stampa come di consueto con il quotidiano sportivo della Gazzetta dello Sport tutto concentrato sul massimo campionato italiano Roma tutto cuore il posticipo di ieri sera che è finale sotto di due golle acciuffa il pareggio al 93esimo con il Milan giallorossi a lungo in difficoltà ma negli ultimi minuti si scuotono e raddrizzano il risultato poi un riferimento a quanto accaduto sulla 1 Foglia agguato in autostrada dove morì Sandri la battaglia oltras romanisti e napolitani terrore sulla A1 nel taglio laterale ancora un focus sugli incontri di campionato il Napoli è campione d'inverno effetto Osimen trascina e segna Spalletti adesso che va a più 7 poi Juventus la signora e lo scudetto Tardelli spinge i max se vince anche al San Paolo dice e poi Lazio rimonta pure dall'Empoli dal 2 a 0 al 2 pari Sarri ci resta male ancora un calo e poi proseguiamo ancora nel taglio alto 17esima giornata le parole di Occioa fermano le parate di Occioa fermano il Torino oggi altre due gare Gasperini in trasferta a Bologna prima di chiudere diamo lettura anche del nostro palinsesto alle ore 11 conto alla rovescia alle 13 camminando molise alle 13.50 Musa TV alle 14 la nostra informazione in diretta con il telegiornale alle 16 punto verde alle 17.30 camminando molise alle 19.30 la nostra informazione con il telegiornale alle 21 l'appuntamento con fuoco incrociato alle 23 l'ultima edizione del nostro telegiornale e non mi resta che salutarvi io vi ringrazio per averci scelto a tutti voi auguro un buon proseguimento di giornata